Invece di celebrare la fondazione di uno stato ciecoslovacco indipendente il 28 ottobre 1918, i ciechi stanno manifestando per la libertà, contro il governo, per aver imposto un rigoroso coprifuoco. Le persone non sono contente per l'annullamento di tutti gli eventi culturali, la chiusura dei ristoranti, i negozi, i supermercati e soprattutto sono contrari all'obbligo di indossare mascherine in pubblico. Non siamo più sotto il gioco di un paese straniero. Non abbiamo più la guerra qui, qualsiasi blocco è inutile. L'unica cosa per cui è utile è il crollo dell'economia. Gli slogan chiedono che il caos governativo finisca e sollecitano la libertà di scelta. Li urlano tutti presenti alla manifestazione qui a Praga. I partecipanti però vengono suddivisi dalla polizia in piccoli gruppi per cercare di evitare infezioni. Vogliamo vivere e lavorare. Quando perdiamo il lavoro, chi se ne frega? Che facciamo con un governo come questo? Gli ospedali cechi stanno rinviando tutti gli appuntamenti programmati e non urgenti e gli interventi chirurgici in cliniche e ospedali sono stati annullati. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie afferma che la percentuale in Repubblica cieca, secondo il numero di morti per Covid, ogni 100.000 persone è una delle peggiori in Europa. I medici esortano le persone a limitare i movimenti per aiutare a frenare la diffusione del virus. Facciamo un appello alle persone a non aspettare le restrizioni del governo, ma a fare qualcosa rispettando i gesti barriera per se stesse e per essere più sicure nella loro attività. Il centro storico e le strade di Praga sono, come nella primavera di quest'anno, diventate ancora una volta delle zone fantasma. Il governo cieco è ancora cauto nel fermare completamente l'economia e introdurre ulteriori restrizioni, incluso un lockdown completo. Il numero di casi Covid nei prossimi giorni sarà il fattore decisivo.